Dentro e fuori. In questo periodo di forzata permanenza a casa, in un appartamento senza terrazza né giardino che condivido con la mia famiglia, ho scoperto una cosa fra le tante che mi manca in un modo che non credevo possibile, il contatto con la natura. Sarà per il divieto di uscire, sarà per la stagione che ci propone belle giornate di sole, sento nell'aria la primavera e il risveglio della natura e mi ritrovo a osservare dalla finestra i piccoli cambiamenti che ogni giorno gli alberi e le piante mi riservano. E allora capisco davvero il senso di realizzare un ambiente in cui la natura è ricreata dalla mano sapiente di un pittore, come avvenuto in tante dimore antiche e come testimonia la sala del giardino d'inverno che si trova a casa Martelli. La sala è completamente affrescata con un pergolato che ricopre le pareti e il soffitto. Il pittore Gaetano Gucci nel 1791 ha creato un effetto di sfondamento a imitazione di un vero e proprio giardino in cui scimmie, gatti, uccelli si alternano e si inseriscono fra i fiori e gli elementi vegetali. E mentre contemplo nostalgica la bellezza degli affreschi e la natura fuori dalla finestra, mi torna in mente un episodio della mia infanzia, quando i miei genitori, in previsione di un restyling completo della mia cameretta, mi hanno permesso di dipingere sulle pareti in completa libertà. E io mi sono attrezzata con pennelli e tempere e ho dipinto un albero di mele, che ancora oggi ricordo perfettamente, il tronco marrone, le foglie verdi, i frutti rossi. È proprio vero, il contatto con la natura è un bisogno atavico ed è presente in tutti noi.